ciao ragazze benvenute o bentornate a tutte nel canale oggi ho il piacere di mostrarvi finalmente il nuovo brand che mi è arrivato in celletta firmato canebo un brand che nasce nel 1887 come impianto di filatura del cotone nel distretto di cane gafuchi a tokyo infatti questo nome canebo nasce proprio dall'unione di cane da cane gafuchi e di bo da bosechi che significa filatura l'azienda di inizio la lavorazione della seta vent'anni più tardi con la produzione del filato proprio nel 1908 grazie poi al know how tecnologico e all'immediata espansione del settore di ricerca e sviluppo la divisione cosmetica divenne immediatamente l'attività forza dell'azienda consacrando canebo tra i migliori produttori di cosmetici in giappone nel 1979 canebo entrò nel mercato europeo un brand che aspira dunque ad accompagnare le donne con armonia e delicatezza nel loro maturare nei loro cambiamenti un brand globale per noi donne moderne questo è il concept di questo brand fai della tua vita un capolavoro e questo brand di skin care si basa su un concetto di crono beauty un giorno un mese un anno ed è proprio da qui che vorrei assolutamente iniziare a mostrarvi i prodotti il ritmo della bellezza cambia al cambiare della vita canebo lo sa perfettamente si focalizza sui cambiamenti della pelle e soprattutto quelli della mente che assicurano il trattamento migliore in ogni momento della propria vita skin care si riconoscono i ritmi della bellezza per scegliere il trattamento ottimale lifestyle adotta lo stile di vita che migliora le nostre giornate e la natura si vive in armonia con la natura l'ispirazione è un packaging particolare perché è ispirato allo scorrere del tempo ed è stato declinato in tutti i suoi packaging ogni prodotto infatti presenterà una scala natura che poi vi mostrerò che richiama il fluire del tempo che scandisce la vita stessa gli elementi distintivi sono sicuramente il global botanic collection una grande collezione di attivi botanici ispirati al potere proprio della natura una tecnologia con una formulazione che sono il risultato di tecnologie e ricerche acquisite in più di 80 anni di presenza nel mercato asiatico e cosmetico e la fragranza è la titopia una fragranza dalle incredibili proprietà dei fiori del tè giapponese e cinesi riuscendo a riprodurli con estremo successo quindi abbiamo un ritmo giorno notte un ritmo mensile un ritmo annuale e un ritmo della vita e inizierei proprio dal primo ritmo il ritmo giorno notte dormire svegliarsi essere attivi riaddormentarsi questo è un ciclo veramente universale e la ricerca di canebo ha dimostrato che poche persone percepiscono la loro pelle perfettamente idratata durante tutta la giornata ma questo in fondo lo sappiamo ed è per questo fondamentale applicare tutte le mattine un trattamento specifico da giorno e la sera un trattamento per rigenerare da notte quindi all'interno del ritmo giorno notte sono presenti i detergenti che adesso andremo a vedere le emulsioni che poi subito dopo vi mostrerò e le creme specifiche per giorno e notte e partirei proprio con la detersione troviamo il millow reaching oil cleansing l'olio che strucca perfettamente la sera per una pelle secca o anche grassa e viene applicato nel palmo della mano massaggiato e subito dopo poi asportato con un pannetto o una sponge o una velina inumidita abbiamo poi la softening cream cleansing una crema addolcente demachillante nasce per le pelli secche ed è un prodotto di veramente estrema morbidezza si applica sempre nel palmo della mano viso asciutto si massaggia poi lo si asporta con una velina inumidita abbiamo il clear cleansing toner una cosiddetta acqua micellare viene applicata sul batuffolo viene deterso tutto il viso e questi prodotti vanno poi asportati in tutti e tre con una velina inumidita eccetto l'acqua detergente l'acqua micellare che viene applicata sul cotone la mattina invece il viso viene lavato con il refreshing creamy wash il sapone che diventa a contatto con l'acqua una morbida schiuma veramente lascia il viso pulito rinfrescato e levigato e abbiamo poi il refreshing powder wash che sono delle pilloline monodosi di polvere che levigano il viso illuminano l'incarnato e risplendono il volto si applicano tutti i giorni si apre questa capsulina lo si mette la polvere nel palmo della mano e leviga la pelle con i primi tre prodotti si deterge il viso per la sera e si purifica e si elimina il trucco la mattina invece si lava il viso e si prepara il viso poi ai trattamenti subito dopo in maniera quotidiana subito dopo il ritmo giorno notte si avvale di una first serum un pieno di idratazione per il giorno e la notte un siro che viene applicato subito dopo la detersione due volte al giorno mattina e sera per ottenere una levigatezza estrema e un'idratazione ottimale si utilizza quindi in sinergia ai detergenti per la sera e i detergenti per la mattina la linea si compone poi di fresh day cream una crema che risveglia la pelle tutte le mattine perché a causa della bassa circolazione sanguigna la pelle può apparire spenta e opaca quindi per contrastare secchezza e gonfiore e promuovere una migliore circolazione si applica questa crema da giorno con un spf 15 che fornisce una dose ottimale di energia e idratazione a lungo abbiamo poi la night lipid wear che rigenera la pelle durante la notte si registra un perfetto metabolismo cellulare che però conduce ad una perdita di idratazione e al mattino infatti la pelle tende a essere più secca e per ottimizzare le condizioni della pelle durante il sonno cannebo propone night lipid wear questa crema da notte che supporta il naturale processo di rigenerazione la mattina quindi la pelle sarà più luminosa e compatta la linea si compone delle lotion moisture flow rich lotion e moisture flow lotion che sono delle acque pretrattanti che possono essere utilizzate la mattina e la sera dopo the first serum e fanno penetrare i prodotti in profondità accompagnate poi dalle loro emulsioni bouncing rich emulsion e bouncing emulsion che sono nate invece per idratare istantaneamente il viso sono di prevenzione antietà sono da giorno e sono delle emulsioni più leggere nate per un tipo di pelle mista e un tipo di pelle un po più asciutta il ritmo giorno notte si conclude con refinaing eye serum un prodotto che nasce per la zona specifica del contorno occhi per levigare borsi occhiaie dare luminosità schiarire proprio quando la zona è un po più spessa e per dare un'estrema luminosità e compattezza questa è la linea completa nel nel ritmo giorno notte una linea completa che inizia a contrastare i primi segni di espressione a tenere il viso ben pulito la mattina e la sera a detergere in perfetta profondità con questi prodotti che adesso vi mostrerò parliamo del ritmo mensile dove impariamo ad ascoltare la pelle nel corso del mese per renderla più levigata e soprattutto luminosa la pelle e le emozioni seguono veramente il ciclo della vita in particolare durante il mese un giorno la pelle può sembrare piena di vitalità e il giorno dopo può apparire spenta e secca non so se vi è mai capitato ma a me molto molto spesso avviene così questo alternarsi di sensazioni e condizioni dipende dai livelli di secrezione degli ormoni femminili e all'interno del ritmo mensile sono presenti dei sieri specificatamente studiati per aiutare la pelle a recuperare e a mantenere il suo equilibrio anche nei giorni più difficili il primo che vi mostro è il blow moon serum un siero leggero come una pioma che migliora il metabolismo della pelle migliorando il colorito spento e attenuando il gonfiore viene applicato mattina e sera subito dopo the first serum the lotion e prima di una crema skin gloss oil water un siero bifasico vedete i due colori da agitare prima dell'utilizzo per illuminare immediatamente la pelle e nutrirla profondamente può essere addirittura utilizzato per le doppie punte per chiudere quindi le doppie punte e soprattutto anche per il corpo smoothing serum il mio adorato wipe off un siero che sfoglia delicatamente la pelle per combattere il colorito spento e uniformare l'incarnato viene utilizzato su un dischetto di cotone subito dopo la detersione ancora prima del first serum o di una lotion o di qualsiasi altro siero infine relaxing broom è un trattamento rinfrescante e idratante da nebulizzare sul viso per regalare una sensazione di estrema idratazione alla pelle da vaporizzare durante la giornata sul make up o quando si ha voglia qui entriamo nel ritmo annuale un giorno un mese un anno dove la pelle è influenzata da diversi fattori esterni tra cui l'umidità variazioni di temperature raggio v inquinamento eccetera e la routine di trattamento quotidiana dovrà essere quindi adattata alle condizioni esterne canebo propone questi due prodotti che permettono alla pelle di mantenersi in condizioni veramente ottimali e sempre perfettamente idratate per la pelle durante tutte le stagioni dell'anno il primo è il frosty gelé lotion che è una lozione che io adoro un gel rinfrescante da utilizzare nei periodi più caldi dell'anno o per una pelle tendenzialmente grassa un gel che si fonde di una freschezza straordinaria awake massage cream una maschera da massaggiare particolarmente indicata per nutrire la pelle nei periodi più freddi è una maschera molto particolare perché può essere utilizzata la mattina dopo aver deterso il viso la si applica per 5 10 minuti per tutto il viso la si massaggia e dopo di che la si esporta con una velina inumidita dopo di che si passa ai trattamenti quotidiani una maschera che dona idratazione e nutrimento in profondità e soprattutto una pelle perfettamente idratata e luminosa l'ultima linea che vi mostro è il ritmo della vita un per canebo si è belle ad ogni età e l'età apporta consapevolezza e soprattutto grazia canebo dunque si concentra sull'esaltare la bellezza naturale delle donne di ogni età ritenendo che essa non possa essere relegata alla sola giovinezza quindi le donne nel pieno della loro maturità cominciano a notare che la loro pelle perde di tono e di elasticità manifestando rughe e segni più profondi è fondamentale dunque utilizzare prodotti anti age specifici ed efficaci con costanza per stimolare le funzioni di rigenerazione della pelle e mantenerla più giovane a lungo quindi qui troviamo il primo prodotto che è la graceful lotion una lozione anti età dalla texture molto confortivo le che migliora la compattezza della pelle troviamo il lift serum in due formati 30 ml 50 ml un tiro anti età concentrato altamente performante dalla texture ricca e molto piacevole garantisce una sensazione di benessere offrendo una definizione tono e una compattezza totali abbiamo poi la full feeling emulsion un'emulsione anti età piacevolmente ricca e morbida che dona compattezza e nutre la pelle in profondità e per terminare la skin tightening cream una crema ricca anti età che si assorbe facilmente per un aspetto immediatamente più tonico e compatto spero che la linea vi sia piaciuta che vogliate provarla perché è una linea che a mi avviso merita tantissimo sia per il concept per le consistenze che per proprio il suo al per la sua allure io già la sto utilizzando sapete che l'ho annoverata già nei miei preferiti e ci sono tantissimi prodotti che presto nello specifico vi parlerò fatemi sapere che cosa ne pensate se anche voi vi ritrovate in questo concept di crono beauty e soprattutto che cosa ne pensate del brand io vi mando un bacio grandissimo grazie di essere state in mia compagnia e come sempre se vi va ci vediamo ad un mio prossimo video ciao